E' stato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza che i carabinieri di Bassano sono riusciti a identificare gli autori di diversi colpi messi a segno il 24 e il 28 settembre scorsi nel cuore della città. Imanette Youssef El Jeddawi, marocchino di 30 anni, residente a Conegliano, già in carcere per furto. Assieme a lui, almeno in due occasioni su quattro appurate, agiva la compagna, una 32enne vicentina. Per lei il giudice ha risposto l'obbligo di dimora nella comunità terapeutica dove risiede. Sempre allo stesso il modus operandi, mentre la ragazza, come si può vedere dalle immagini registrate in uno degli episodi, restava fuori come palo, avvisandolo di eventuali disturbi, lui si introduceva nel negozio preso di mira. Una volta dentro svuotava il registratore di cassa del denaro contenuto e usciva. Ci sono voluti quasi nove mesi, ma ora il cerchio è chiuso, da capire se i due abbiano realizzato altri furti in città.